La rete cambia gli individui e la società L'uomo costruisce gli strumenti, ma questa è soltanto metà della storia, il fatto è che gli strumenti retroagiscono sull'uomo modificandolo profondamente, modificando le sue caratteristiche cognitive, modificando la sua cultura, modificando anche le strutture sociali. E siccome le reti fanno parte di quella categoria di macchine mentali che negli ultimi tempi sono diventate così importanti per noi, computer, smartphone e cose di questo genere, si vede chiaramente come la rete influisca sulle nostre abitudini mentali, come possa ampliare la memoria, come possa metterci in contatto con un vastissimo repertorio di dati e quindi c'è una profonda influenza sia sugli individui singolarmente, sia sui gruppi, sia sulla società. Parliamo di nativi digitali, che differenza c'è tra noi che siamo immigrati digitali, che abbiamo una certa età, e invece i nativi digitali che sono nati con queste tecnologie che lei ha appena citato? I nativi digitali nascono in questa atmosfera digitale, in questa temperie, in questo milieu digitale e quindi non si rendono nemmeno conto di esserci dentro, mentre noi che siamo immigrati digitali vediamo questo ambito digitale come qualcosa di esterno nel quale dobbiamo penetrare e lo facciamo con una certa fatica. Loro invece ci navigano tranquillamente perché ci sono nati e hanno un'abitudine, fin dalla nascita si potrebbe quasi dire, ad usare questi mezzi che per loro sono diventati naturali, mentre per noi sono sempre un po' limitati da un diaframma che sono le nostre abitudini concettuali, la nostra cultura e così via. Quindi c'è una differenza abbastanza profonda tra noi e loro. C'è una differenza profonda che è stata registrata dall'ultimo rapporto dell'Ocse su tecnologia e studenti e apprendimento. I dati sono abbastanza deludenti perché pare che questi strumenti tecnologici non siano in grado di dare più strumenti ai ragazzi. La scuola con la tecnologia sta peggiorando e questo in tutti i paesi analizzati dall'Ocse. Vuol dire che noi siamo inappropriati come immigrati digitali. Forse la scuola che mantiene una certa tradizione appunto atavica è inadeguata rispetto alle tecnologie. Quindi bisognerebbe vedere e studiare un po' meglio il meccanismo secondo il quale vengono valutate le prestazioni degli studenti e della scuola. Certo è che le tecnologie, se la scuola ha una tradizione buona di carattere critico, di carattere filosofico, di carattere umanistico, le tecnologie possono aiutare a sviluppare questa buona scuola. Mentre se la scuola ha una tradizione scadente è chiaro che le tecnologie non possono fare nulla, anzi possono anche peggiorare la situazione. Noi non siamo all'altezza quindi dei nativi digitali. C'è una cesura importante tra la nostra generazione e quella dei nostri figli, nipoti e pronipoti? Certamente sì. Infatti questi nativi digitali non hanno gli strumenti critici che abbiamo noi acquisiti attraverso lo studio dei classici e così via, però navigano all'interno di questo mezzo senza tuttavia vederlo in prospettiva, mentre noi lo vediamo in prospettiva ma non ci navighiamo dentro. Quindi c'è una discrasia abbastanza forte. Ci sono queste due differenze, esserci dentro ma non essere in grado di capirlo, capirlo ma non esserci dentro. Grazie a tutti.